Il cuore del Gesù, per te, è la nostra presenza, per tutta l'ustura del tuo cuore, perché necessitiamo di essere un'unità di Gesù. Lui, in Glessia, non è così, stiamo a ministeri, a finire un sacco, necessitiamo di avere un'unità di Gesù, per te, è la tua presenza, 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 per te. Il cuore del Gesù, per te, è la tua presenza, per te, è la tua presenza, per te, è la tua presenza, per te. Per te, è la tua presenza, per te, è la tua presenza, per te. Per te, è la tua presenza, per te, è la tua presenza, per te. Per te, è la tua presenza, per te. Signore, tu eres digno, che tutti te amore. Si, Signore.